ciao ragazzi benvenuti su ali from the block e ftb channel io sono ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di topolino numero 3539 eccolo qui con questa copertina realizzata da francesco di polito e colori troviamo mario perrotta una coppia collaudata che già avevamo visto nella testata al manuale delle giovani marmotte e che spesso anche vediamo comunque sulle copertine di topolino una copertina che sinceramente non mi entusiasma tanto mi entusiasma più per quanto riguarda i colori che per quello che viene rappresentato nel disegno da di polito praticamente quello è in una storia in una storia di questo numero vedremo paperino e paperoga ma questa insomma questa scena non ci sarà è una scena totalmente che non va insomma a riprendere quello che leggeremo all'interno appunto del numero 3539 comunque c'è paperino che si arrampica qui e paperoga dietro di lui in questa insomma immersi nella natura buono i giovani colori il disegno carino ma ci sono state copertine migliori scritta rossa con rilevo bianco topolino scritta bianca disney per questo 3539 che si apre con la vignetta di silvia ziche che era tira paperopoli e qui vediamo appunto paperino paperoga protagonisti combina guai che poi vedremo insomma all'interno della storia che vi anticipo è stata una delle migliori di questo albo paperino dice ok prima di litigare cerchiamo di stabilire quanto di questo disastro è stato causato dalla mia proverbiale sfortuna e quanto della tua mostruosa imperizia quindi come al solito paperino sfortunato paperoga pasticcione l'introduzione del direttore alex bertani ci parla del fatto che sta finendo l'estate e lui c'è questa convinzione insomma che le sta quando finisce l'estate ci sia tristezza per me non è assolutamente così perché io odio il caldo e l'estate e amo invece l'inverno e l'autunno quindi non vedo l'ora che arrivi l'autunno vi dico soltanto una cosa ragazzi qui oggi da me siamo al 19 settembre e ci sono 33 gradi fa ancora caldissimo e questo mi dà fastidio vedo l'ora che arrivi l'autunno però niente alex bertani qui ci dice nel senso quello che leggeremo in questo numero nei prossimi ci dice quello che vedremo anche per halloween e sono molto curioso quando ci sarà halloween le storie di lord eight quack e tutto quello che vedremo poi fa anche vari nomi di autori che vedremo nel tempo con su topolino nucci zironi sisti enna faraci artibani pezzini sciarrone zemelo e tanti altri vediamo poi il sommario con le varie storie sono sei in tutto includendo anche l'ultima che è una sola pagina allora si parte con l'episodio 2 di 5 della seconda stagione dell'evaporati cioè coscienza superiore bruno enna con i disegni lechine di davide cesarello e il colore di irene fornari allora come detto i disegni e i colori mi piacciono molto e anche la storia devo dire che questo secondo episodio mi è piaciuto ci sono qui vediamo gamba di legno e sgrinfia che menzionano macchia nera che avevamo visto nel primo episodio la gente che si è persa insomma in questa topolinea diversa immersa nella nebbia gli evaporati insomma lo conosciamo come come serie e diciamo che questo secondo episodio è ancora presto per giudicarlo perché ce ne saranno altri tre però insomma mi è piaciuto anche questo secondo episodio zevo perone e il solid cloud storia di fabio michelini con i disegni di blasco pisapia che torna su topolino dopo un periodo d'assenza kine di roberta zanotta e colore di irene fornari allora qui protagonisti ovviamente zevo perone e paperino soprattutto con un'invenzione di archimede è una storia tendente al fantascientifico fantascienza non mi ha mai fatto impazzire non è mai stato il mio genere preferito però devo dire che in questa storia si è rivelata anche abbastanza simpatica abbiamo un paperino diverso che al posto di stare a dossiare sulla sua amaca sa sempre a leggere libri insomma anche belli anche i colori una storia che devo dire che per me non è stata la migliore di questo numero di topolino però l'ho trovata abbastanza simpatica poi ci sono i partoli relazionali quattro passi con due tipi in gamba tippet up che ci portano a spasso per topolinia guida della città e soprattutto la cosa più interessante che ci fanno vedere alcuni dei parenti di topolino tra cui la zia topolinda qui in ritratto da giovane e altri parenti di topolino tra cui zio max bisnonno albe marl topi madeline mouse zios jeremy e castenziano rattone quindi belli questi questi personaggi che spero che prima o poi vengano inseriti in qualche storia l'agenda del 23 29 settembre cosa vedremo in tv gli eventi che ci saranno e poi c'è secondo me la storia più bella che poi anche quella che va un po a riprendere la copertina di paperoga ne basta uno che è la storia di scritta da francesco vacca disegnata disegni echine di luice leoni e colore di valentina mauri allora qui praticamente abbiamo paperino e paperoga protagonisti che stanno guardando un film horror mangiando dei popcorn il giorno dopo dovranno andare a fare un'escursione e devono svegliarsi presto per devono fare un servizio sui castori equilibristi per il paper sera e di lì a poco insomma paperino poi va a letto perché finisce il film va a letto se ne torna a casa per andare a dormire visto che si devono svegliare presto paperoga però in una delle sue stranezze va allo specchio e fa come un po come aveva visto nel film e di lì a poco insomma ci saranno dei doppi paperoga e non posso dirvi altro perché la storia è breve ma è una storia molto simpatica devo fare i miei complimenti a francesco vacca che ha confezionato una storia corta di quelli di quelle riempitive ma ancora una volta la storia riempitiva per me è la migliore di tutte poi c'è questa che non mi ha assolutamente entusiasmato paperozzi usa il vortice della sapienza storia di rudy salvagnini disegni e lechine di federico maria cugliari e colore di gaetano gabriele d'aprile questa quando diciamo sia nel mondo di topolinea che qui nel mondo di paperopoli vanno nel passato e impersonificano insomma vecchi personaggi personaggi storici a me diciamo che le storie disney così non mi fanno mi hanno mai fatto impazzire e in questo caso è la stessa cosa perché questo paperozzi insomma nel passato personaggi vecchi c'è anche zio paperone di mezzo niente di che sinceramente non mi ha non mi ha per niente non mi è quasi per nulla piaciuta mi sono piaciuti invece i vari relazionali geografici che mettono all'interno qui ci si parla del parco più alto del sud italia il parco appennino lucano valdagri lago negrese in basilicata ci fa vedere cosa c'è in questa regione che più di una volta in topolino viene insomma menzionata la regione basilicata che come ben sapete ragazzi l'ho detto più volte io sono pugliese il primo paese della basilicata lo trovo una cinquantina di chilometri quindi confino con la basilicata puglia e basilicata sono due regioni sorelle secondo me la basilicata è una delle regioni più sottovalutate d'italia qui ci fanno vedere un po la fauna di questo parco la varie varie nature insomma molto interessante valdagri la vera provincia di potenza lago negro vigiano insomma sono citati alcuni paesi alcune zone del potentino comunque della basilicata poi segreti degli animali si parla di cani e gatti perché i cani annusano tutto perché gli occhi dei gatti brillano di notte molto interessante e istruttiva anche soprattutto per i più piccoli non solo questi documentari anche sugli animali barzellette colmi ovviamente sempre da citare sempre molto simpatiche come anche i giochi e poi c'è la storia questa anche carina manetta e roxassi in foresta d'asfalto di matteo venerus con le disegne e lechine di giuseppe zironi e il colore di putra shaq bimbi nabjalil protagonisti appunto l'ispettore manetta e roxassi dopo che la signora dice a loro agenti sono disperati sono disperata ora hanno rubato la mia spilla d'oro loro devono trovare questo ladro avranno a che fare anche con il commissario basettoni storia leggera ma devo dire simpatica niente di eccezionale ma una riempitiva carina insomma poi vediamo insomma cosa cosa arriverà in edicola questa settimana disney big e le più grandi avventure dell'antichità disney big ragazzi ne ho chiesto solo due in vita mia prima o poi un altro numero lo prenderò anche perché non ho mai portato sul canale è il prossimo numero 3540 con questa bella copertina decisamente più bella di quella che è uscita insomma su questo numero ci sarà la topoguida con l'itinerario da non perdere con pietro gambolino protagonista le storie invece abbiamo topolino la signora del lago di francesco artibani e giampaolo soldati questa sembra essere molto interessante zio poverone la rivincita delle wild card di roberto gagnore valerio held i misteri di paperopoli finalmente torna questa bella saga che mi piace picco paperino la pagina nascosta di carlo panaro e massimo fecchi paperino zio paverone l'avventura zoologica storia disegni e kine di harryl midton quindi questa è una storia inedita in italia ma edita all'estero il terzo episodio di 5 della seconda stagione dell'evaporati quantum di bruno n davide cesarello e infine topolino le equivoci di pippo passatempo storia disegni di casti questo numero invece si chiude con il commissario indaga il titolo l'attaccheggiatrice scusate con le sceneggiature di marco bosco disegni di christian caffailla allora ragazzi copertina non promossa per quanto vi riguarda però le storie vi faccio una classifica primo posto sicuramente metto di paperoga ne basta uno sicuramente la storia riempitiva ma molto bella secondo posto per gli evaporati il secondo episodio coscienza superiore terzo per zio per nel solid cloud quarto forester asfalto mentre paperozzi usate dalla storia che mi è piaciuta di meno di tutti un numero leggermente migliore a quello precedente a 3538 questo 3539 comunque un buon numero ma l'ho visto come un numero abbastanza di transizione perché il prossimo 3540 già dalla copertina ma delle storie e anche dei titoli mi sembra che sia che sarà superiore speriamo sia una bella lettura ragazzi come al solito vi ringrazio per aver visto il video vi ringrazio per il supporto che mi vedete sempre se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale se già non lo siete continuate a supportarmi e a commentare soprattutto perché lo sapete i commenti sono il sale di questo mio canale ma io direi di tutti i canali quindi grazie ancora mi raccomando fate bravi e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi